La mia fine avvicina. Nelle mie ultime ore affido la mia anima a Dio. No, possa egli avere pietà di questo luogo infernale. Francis Drake. Insomma, cosa stavi cercando? Statua d'oro. Peso 20 arroba. Sono più di due quintali. Deve essere lui. Che diavolo è successo qui? E' in trappola, Drake. Drake è qui da qualche parte. Roman lo vuole morto. Mi hai assicurato che Drake era prigioniero e che l'isola era sicura. Uccidete gli entrambi. Ti assicuro, Eldorado merita più di quanto tu possa immaginare. Crede, quest'isola è maledetta! Oh no! Oh Dio, no! Grazie! Dio, ciao! Grazie a tutti.